Giovanni Caccamo, trionfatore di Sanremo Giovani, torna a Modica ed è un successo. Tanti, tantissimi fan che hanno voluto dare il loro caloroso abbraccio ieri pomeriggio all'infant prodige della nostra città. Così lo ha definito la sua insegnante di canto Elisa Turlà, emozionata sul palco del teatro Garibaldi insieme a lui. Giovanni, semplice ma sicuro, affabile, simpatico con tutti, non si è risparmiato nemmeno un autografo. Vi saluterò una a una, detto all'inizio della sua performance sul palco del teatro, e così è stato. Lasciate le luci accese sul pubblico, ha chiesto alla regia, io vi voglio vedere e sentire. E mentre lui riprende il pubblico che canta la sua canzone per la sua pagina Facebook, Giovanni ci ha conquistato proprio tutti. La famiglia in prima fila, sempre presente, molti gli amici e i parenti tra il pubblico, e poi tanta gente semplice, che ha voluto incontrarlo e vedere da vicino questo ragazzo, che con la faccia pulita, i modi educati ed eleganti, è il beniamino di tutti. Emozionatissima la mamma. Adesso sperimentiamo l'affetto di tante persone che ci sono state vicine, con sincerità e semplicemente per quello che siamo. Siamo contenti per questo. Forse è proprio questa la formula di Vincente, di suo figlio, il fatto che uno come tanti... ...un ragazzo che ama la sua terra, è autentico, è molto semplice. È bravo, dicono anche. E beh, questo non lo devo dire io. Lui, sicuro di sé, con determinazione, coraggio e tanta emozione, ci ha raccontato così questa esperienza. Tutti qua fuori a fare il tifo per te, beh, penso una bella emozione tornare a Modica oggi. Assolutamente sì, ringrazio tutte le persone che continuano a sostenermi e mi hanno dato questo grande affetto. Sono tanti, un po' di tutte le età, questo perché tu piaci a tutti e mi sembra una formula più che vincente. Eh, che dire, io ho fatto del mio meglio per arrivare fin qui, questo è quello che ho potuto fare, ecco. Ma un'emozione, una sensazione, una parola. Felicità.